Buonasera ragazzi, dunque faccio questo video più velocemente possibile perché vorrei chiarire un paio di concetti che evidentemente da quello che leggo non sono del tutto giusto. Vorrei parlare un attimo della differenza tra le armi Magnum e le armi Standard. Potrei anche dire tra le armi Camerata 70 e quelle 76 a salire. Allora, c'è purtroppo una convinzione sbagliata che le armi Magnum siano più robuste e più resistenti delle armi Standard. Ma attenzione perché così non è. In passato le armi Standard venivano provate alla prova delle armi da fuoco e quindi circa 900 bar. Mentre si era fatta una prova superiore per le armi da fuoco che si aggira intorno ai 1350 bar per tutte le armi che erano Magnum. Quindi c'era effettivamente una differenza. Voi potete vedere nel punzone se avete un'arma, un fucile un po' più datato, c'è la PSF e una stellina sopra. In quelle Magnum c'era il PSF con due stelline sopra. Quindi effettivamente si pensava che le armi Magnum fossero anche più robuste rispetto a quelle Standard. Successivamente, negli anni 80-90, si è cambiato un po' questo criterio. Praticamente tutte le armi, sia Standard che Magnum che siano, sono state sottoposte alla prova superiore delle armi da fuoco. Quindi nei pucili moderni trovate le due stelline dopo il PSF, a prescindere che siano Magnum o meno. Questo vuol dire che le vostre armi sono state provate alla stessa pressione con cui sono state provate le armi Magnum. E quindi sono fatte per resistere alle stesse sollecitazioni. Allora non c'è più il discorso che le armi Magnum sono più robuste rispetto alle armi Standard. Non esiste più. Ora sono tutte uguali. Hanno tutte la stessa resistenza e sono tutte pensate per resistere alle stesse sollecitazioni. Dove sta la differenza? L'arma Magnum è camerata 76 o più. L'arma Standard è 70. Normalmente una volta c'era anche 65 ma oramai non ne fanno più. Quindi 70 e sparano cartucce normalissime, anche corazzate come questa, ma lunghe 70 mm. Poi ci sono le cartucce Magnum che sono quelle lunghe 76 mm. Qua non ne ho se ne vorrei fare vedere. Ma la differenza è dove sta che entrando questa cartuccia dentro una camera standard arriva perfettamente a filo con la camera di scoppio. Quindi quando sparo tutte le sollecitazioni dovute allo scoppio avvengono all'interno della camera di scoppio che è una parte della canna iniziale, ve l'ho fatta vedere se avete visto i miei video sui fucili, che è un po' più doppio e più resistente del resto della canna. Quindi le sollecitazioni in quel punto della canna vengono ben sopportate e non succede nulla, spari e l'arma regge perfettamente il colpo. Se io mettessi un bossolo lungo 76 in una camera standard, quel po' di bossolo in più finirebbe fuori dalla camera di scoppio. E le sollecitazioni di quel punto andrebbero in un punto in cui la canna non è abbastanza spessa e robusta da poterle sopportare. Quindi se non è fatta per sopportare quelle sollecitazioni rischia di riconfiarsi, aprirsi e via discorrendo. Ma non perché il fucile non sia in grado di sopportare quelle sollecitazioni. Semplicemente perché vengono applicate in un punto della canna che non è fatta per sopportarle. Chiaro? Quindi quando avete per le mani una cartuccia che è sballata, perché è caricata con delle pressioni eccessive, ed è una cartuccia normale, non vi illudete che sparando in un fucile magnum siete a posto. Non è così. Il fucile magnum se deve scoppiare scoppia. Non è in grado di sopportare delle pressioni superiori a quelle di un fucile standard. Chiaro? Addirittura, diceva una volta Garolini, che le armi dagli anni 60 in poi, pur essendo provate a 900 bar, quindi al PSF con una stellina sola, erano comunque fatti con materiali abbastanza robusti da poter sopportare anche le 1320 bar della prova superiore. Quindi, teoricamente, e sottolineo teoricamente perché poi le prove si fanno sul banco di prove e non con le parole, teoricamente sarebbero state perfettamente in grado di sopportare le stesse sollecitazioni di un'arma attuale, moderna, che ha superato la prova dei 1300 bar. Questo non vuol dire che noi possiamo caricare cartucce con 1300 bar, perché il fatto che sopporti la sollecitazione così forte una volta, due volte, tre volte, quattro volte, dieci volte, va bene. Ma, a lungo andare, Incominceremo a danneggiare le parti meccaniche, Incominceremo a danneggiare le chiusure, Incominceremo a sottoporre sotto eccessiva sollecitazione l'acciaio, e alla fine cede. Ok? Quindi dobbiamo, sappiamo che ha retto quelle pressioni, e dobbiamo sottoporci delle pressioni molto inferiori, massimo 900 bar, per essere tranquilli e sparare in serenità, più colpi consecutivi senza avere brutte sorprese. Quindi ricordatevi, se avete un'arma magnum non avete in mano un cannone. Attenzione! Ne va della vostra incolumità. Quindi ragazzi, per concludere, ricordatevi, se avete un'arma magnum non avete in mano un cannone. Avete un'arma che sopporta le sollecitazioni esattamente come un'arma standard, con l'unico vantaggio di avere una camera di scoppio più lunga. Cioè, ci potete mettere un bossolo più lungo. Fino a dei discorsi. Non potete superare quelle pressioni, che già non potete superare con le armi standard. Ok? Non andate per nessun motivo oltre 900 bar, e non fate cartucce che sollecitino troppo l'arma alle sue parti. Se volete che l'arma vi duri nel tempo, e che le vostre mani restano integre. Ok? Mi premeva chiarire questo punto. Vi prego di dirmi qualunque dubbio avete su quello che ho appena detto. Sono pronto a chiarirvelo. La mia email la conoscete. Impariamo a caricare. Ghiocciolibero.it La trovate scritta in tutti i miei video. Ok? Bene ragazzi, una buona serata. In gamba. E alla prossima. Ciao! Ciao!